Ha scontato 26 anni di carcere per l'associazione mafiosa, ha pagato lo suo conto allo Stato ed ora cerca un'occupazione lavorativa. Lui è il 52enne Rocco Ferrigno. Lo scorso 20 maggio la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Caltanissetta ha esitato parere favorevole all'impiego lavorativo dell'uomo evidenziando che è stato troncato ogni rapporto con la criminalità anche in ragione della collaborazione con la giustizia dei suoi fratelli Crocivisto Massimo e Sergio. Ma Rocco Ferrigno ha trovato solo porte sbarrate. Io non voglio niente ma quantomeno per poter sopravvivere. Al momento attuale distanza di anni rinnega completamente le consulterie mafiose. A me non mi interessa più della criminalità e niente niente. Io non voglio fare più del male a nessuno. Però una speranza sia per me o sia anche per gli altri che usciranno dal carcere che sono anche loro dei poveri desigraziati è di avere un sostegno di poter lavorare onestamente. Rocco Ferrigno è difeso dall'avvocato Lucio Greco. Giù le mani dalle persone deboli, dalle persone che hanno bisogno e dalle persone che chiedono veramente aiuto perché si trovano in un momento di grande, di grandissima difficoltà. E il caso del quale oggi parliamo è un caso di assoluto bisogno. Questa persona nel 2011 dopo aver regolarmente espiato la propria pena è stato rimesso in libertà ed è dal 2011 che si rivolge al sindaco, si rivolge agli assessori per chiedere aiuto, per chiedere di poter tornare a lavorare, per chiedere un sostegno e tornare a una vita normale. L'appello di Rocco Ferrigno è stato raccolto da donna Luigi Petralia, parroco della chiesa di Santa Lucia. C'è un protocollo di legalità che è ottimo e che ha dato i suoi frutti e dà i suoi frutti, quindi va sempre garantito questo protocollo di legalità. Però secondo il mio parere avviso, secondo la mia opinione, va rivisitato perché si deve dare l'opportunità a questi soggetti che hanno pagato il prezzo con la giustizia di rinserirsi a livello lavorativo, perché il protocollo di legalità cosa voleva realizzare? Impedire alle aziende, alle imprese di prendere soggetti mafiosi perché imbosti dalla mafia, perché o pagavano il pizzo oppure lo pagavano sotto forma di assunzione fittizia di questi soggetti. In questo caso i soggetti sono monitorati da parte delle istituzioni stesse, dalla procura, dalla questura che conosce la vita di queste persone, quindi sa se si sono staccati realmente dal potere mafioso.